La città di Catania sarà protagonista domani e sabato 24 settembre di una delle prove sul campo previste dal progetto europeo di resilienza alle calamità naturali Resiloc. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la protezione civile e la società YesSolution, sarà ospitato nei locali del Castellursino e di Palazzo degli Elefanti e operativamente nell'area compresa tra Piazza Duomo e Piazza Università. Un ambizioso progetto finanziato dalla Commissione europea, finalizzato alla stima e al miglioramento della resilienza ai disastri naturali delle comunità locali. Diversamente da una normale esercitazione di protezione civile in cui si verifica la capacità di reagire ad un evento, la stima della resilienza è un'attività a livello di preparazione all'evento. Nel modello di Resiloc si trovano sei diverse dimensioni della resilienza sociale, ambientale, di governo, economica, infrastrutturale e di capacità nella riduzione del rischio da disastri. Le attività durante le quali le soluzioni Resiloc saranno valutate coinvolgeranno le autorità locali, insieme con i servizi tecnici, i primi soccoritori ai servizi di emergenza, altri operatori interessati e i cittadini, destinati a contribuire con informazioni dinamiche acquisite tramite questionari e sensori volti a comprendere la percezione del rischio e la preparazione contro i rischi naturali.